Hai bisogno di utilizzare lenti da vista per la pratica dello sci o dello snowboard ma hai difficoltà dell'utilizzo di lenti a contatto? Damon ha la soluzione qui per te. Due diverse tipologie di soluzioni vista per chi pratica sci e snowboard. La prima soluzione è una maschera OTG, definita Over the Glasses, cioè una maschera che può essere utilizzata insieme alla propria montatura da vista. Questo è il modello Big Sky con lente fotocromatica. Significa che al variare dell'intensità di luce varierà la scurezza della lente. La particolarità di questa maschera è uno scasso laterale che permette l'utilizzo assieme alla propria montatura da vista. Si potrà quindi utilizzare la maschera in contemporanea con i propri occhiali da vista. Questo permetterà inoltre nel momento in cui non si utilizzerà più la maschera come per esempio per un caffè in baita, di poter utilizzare i propri occhiali da vista e dopo, nei momenti in cui si riprenderà la sciata, reindossare la maschera. La seconda soluzione invece è una clip universale per maschere. È compatibile con ogni maschera presente sul mercato. Sarà quindi possibile effettuare la gradazione direttamente nei punti preposti. La particolarità di questa clip è che può essere inserita sia in maschere da adulto che in maschere da bambino. Sarà quindi possibile tagliare questa parte per adattarla alla propria maschera. Come viene utilizzata questa clip? Questa clip sarà quindi inserita nella parte centrale della maschera. La clip quindi sarà inserita in questo modo. e la parte finale sarà inserita all'interno della montatura. In questo modo si avrà quindi la possibilità di utilizzare le proprie lenti da vista senza l'ingombro delle aste. Quindi è una soluzione completamente diversa rispetto alla maschera OTG. Il vantaggio di utilizzare una clip da vista per le maschere da neve è quella di avere un maggiore comfort rispetto all'utilizzo di una maschera OTG. In questo caso sto utilizzando la clip sul modello Master. Anche questa è una maschera fotocromatica che quindi si scurirà o diventerà più chiara a seconda dell'intensità di luce. Per maggiori informazioni commenta qui sotto oppure ci trovi disponibili in chat nello store ufficiale www.demonocchiali.it www.demonocchiali.i.it Grazie a tutti.